E' iniziato ufficialmente il controesodo dalle vacanze di quest'estate 2021, sotto pressione le principali arterie della Toscana, in particolare le autostrade, la Firenze Mare, l'Autosole, la Uno, nel tratto appenninico che porta tutti quanti verso nord e verso il rientro a casa. Nella giornata di oggi da segnalare che non ci sono stati particolari difficoltà o disagi, ma il traffico è molto lento, code soprattutto nel tratto fiorentino, in particolare dove inizia l'autostrada che porta verso Bologna. Code anche sulle superstrade, la Firenze Pisa Livorno, dove si è segnalato un incidente nell'area dell'interporto della città labronica e sulla Firenze Siena. Ma qui la situazione è stata sicuramente più positiva. Ricordiamo che dalle 16 sono scattati di nuovo i permessi di viaggiare per i tir e quindi questo potrebbe arrecare con un bollino rosso, anche nero in certi tratti, difficoltà durante la notte. Ricordiamo che i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7 alle 22 della domenica. In conclusione, nel pomeriggio per percorrere il tratto da Firenze fino a Bologna si impiegavano circa 90 minuti.